Le divisioni che ancora oggi ci sono tra i discepoli di Cristo fanno male al cuore. Lo ha detto Papa Francesco mercoledì all'udienza generale, tracciando un bilancio del suo secondo viaggio internazionale dal 24 al 26 maggio in Terra Santa. Momento culminante della visita, ha spiegato il pontefice ai fedeli radunati in piazza San Pietro l'abbraccio con il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo I a 50 anni dallo storico incontro a Gerusalemme tra Papa Paolo VI e il patriarca Atenagora. Ricordando l'intenso momento di preghiera al Santo Sepolcro, Papa Francesco ha sottolineato che proprio nel luogo dove risuonò l'annuncio della risurrezione si è avvertita tutta l'amarezza e la sofferenza delle divisioni e ha auspicato che il cammino verso la piena comunione possa ripartire con tenacia. Una volta in più come hanno fatto i papi precedenti io chiedo perdono per quello che noi abbiamo fatto per favorire questa divisione e chiedo lo Spirito Santo ci aiuti a risanare le ferite che noi abbiamo fatte agli altri fratelli. Un altro dei pilastri del pellegrinaggio compiuto tra Giordania, Palestina e Israele è stato il tema della pace, dono di Dio e impegno degli uomini in una terra che da troppo tempo vive nel tormento delle violenze e della guerra. Per questo ho esortato i fedeli cristiani a lasciarsi ungere con cuore aperto e docile dallo Spirito Santo per essere sempre più capaci di gesti di umiltà, di fratellanza e di riconciliazione. La pace si fa artigianalmente. non ci sono industrie di pace, si fa ogni giorno artigianalmente e anche col cuore aperto perché venga il dono di Dio. Papa Francesco ha poi espresso gratitudine per la generosità della Giordania che ha accolto numerosi profughi provenienti dalle zone di guerra e ha invitato le autorità interessate a proseguire gli sforzi per stemperare le tensioni nell'area medio orientale, soprattutto nella martoriata Siria, come pure a continuare nella ricerca di un'equa soluzione al conflitto israeliano-palestinese. Per questo ho invitato il Presidente di Israele e il Presidente della Palestina, uomini ambitue di pace e artefice di pace, a venire in Vaticano a pregare insieme con me per la pace. E per favore chiedo a voi di non lasciarsi soli. Infine il pensiero di Papa Francesco è andato ai cristiani in Terra Santa, coraggiosi testimoni di speranza e di carità che operano in favore della riconciliazione e del perdono, contribuendo al bene comune della società. Con viva gratitudine per questo grande dono per la Chiesa, il Pontefice ha sottolineato di aver voluto dare una parola di speranza che poi ha ricevuto a sua volta. L'ho ricevuta dai fratelli e sorelle che sperano contro ogni speranza, ha detto, attraverso tante sofferenze come quelle di chi è fuggito dal proprio paese a motivo dei conflitti, come quelle di quanti in diverse parti del mondo sono discriminati e disprezzati a causa della loro fede in Cristo. Grazie.